Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta salata funghi e carciofi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono una dose di pasta brisè, cuore di carciofo surgelati a spicchi, olio d'oliva, funghi misti, prezzemolo, sale, pepe, uova, latte, panna da cucina, parmigiano grattugiato e scamorza affumigata. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i carciofi, i funghi e l'olio. Li facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Aggiungiamo adesso il prezzemolo. Continuiamo la cottura per 3 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Andiamo a togliere l'acqua in eccesso. Distribuiamole adesso sulla dose di pasta brisè che abbiamo leggermente bucherellato con i rabbi di una forchetta. Niveliamo bene. Condire adesso con un po' di sale. Mettiamo un po' di pepe. Adesso senza lavare il boccale mettiamo le uova, la panna da cucina che noi abbiamo fatto con il bimbi, il latte, il parmigiano, il sale e il pepe. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Versiamo il tutto sopra il ripieno. Adesso mettiamo i cubetti di provola affumicata. richiudiamo i bordi. Andiamo a cuocere in forno prediscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti circa. La torta salata è pronta. Lasciamola raffreddare prima di servire. Torta salata, funghi e carciofi. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.